La città post-ferragosto si sveglia con diverse chiusure dovuti al periodo estivo e alla necessità di riposo per le ferie. Serrande chiuse, arrivederci, torniamo presto, si legge su alcune vetrine dei negozi del centro di Bari, chi per una settimana, chi per poco più. Ma le vie principali dello shopping resistono, via Sparano e Corso Cavour, sono ancora attive e gremite di turisti stranieri, italiani, visitatori e baresi. C'è chi sorseggia un caffè, chi passeggia fra i negozi tipici o nelle catene internazionali, che hanno deciso di restare aperte per scelte aziendali. Tutti però contribuiscono allo shopping turistico cittadino, in netta ripresa quest'estate, come confermano le dichiarazioni di alcuni commercianti. Abbiamo scelto di rimanere aperti a Ferragosto perché ci sono un sacco di stranieri e quindi ha permesso di lavorare un bel po'. I turisti ci sono, entrano, guardano, c'è chi spende, chi guarda soltanto, l'importante è aver ricominciato, la città è bella, viva, almeno in centro, c'è molto movimento. Bari sembra Barcellona, il pubblico risponde bene, il target è giovane, sicuramente hanno lavorato bene i tour operator perché stanno arrivando veramente dalla Francia, dalla Germania, dalla Spagna, quindi Bari è abbastanza forte in questo momento. Grazie a tutti.